Non ti scordare di me Grazie mille, un complimentone Anzi ringraziamo Titti dell'altra volta Con Vico Pensiero Un libro molto interessante Devo essere sincero Poi riceverete le copie dall'editore Le stiamo aspettando Siamo molto curiosi di leggere quel libro Oggi invece parliamo di un altro scrittore Molto importante sulla scena italiana Il candidato al premio Campiello 2013 Ed è stato anche il più votato Della cinquina dei candidati a questo premio E lui si chiama Fabio Stassi Abbiamo in collegamento Pronto Fabio Buongiorno Buongiorno Fabio Grazie a voi Fabio ti ringrazio moltissimo Per aver accettato questa richiesta Sappiamo che sei impegnatissimo Una cosa che volevo dire pubblicamente Di cui parlavo anche con Lorena e Giuseppe Prima è che io raramente ho conosciuto Un autore di così grande talento e successo Con questa grande umanità e disponibilità Mentre al contrario conosco molti piccoli autorucoli E scrittucoli che se la tirano molto Quindi ti ringraziamo perché sei gentilissimo E è anche per noi un grande onore Un piacere presentare la tua opera L'ultimo ballo di Charlot in particolare Qui a Rieti Lazio TV Grazie molto Fabio Se possiamo fare dalla regia Gli diamo a Luciano Mancino Un primo piano alla copertina del libro No ma volentieri perché la copertina è merita Eccolo qui E' bellissima L'ultimo ballo di Charlot Conosciamo tutti perché è veramente Charlie Chaplin Charlie Chaplin Io infatti volevo iniziare con una domanda Appunto allo scrittore Fabio Stazzi Che abbiamo adesso in collegamento Uno scrittore che lavora in una grande biblioteca romana Sembra il luogo migliore dove stare E' così? Allora intanto mi ringrazio per le belle parole Sono generosissima Sono sincero E' vero che dopo Adesso avrò parecchi impegni Dovrò stare molto in giro E che io non sapevo poi che Dietro a un libro c'è tutta questa Questa attività Questi viaggi Questi incontri Alcuni naturalmente sono molto belli Oggi però stranamente Curiosamente mi sono svegliato Con due linee di febbre E quindi sto a casa E sto benissimo No saranno le emozioni così Quindi siamo tranquillissime Il colpo di grazia ti diamo Magari speriamo di no 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 Comunque Sì io lavoro in una biblioteca Ho lavorato per tanti anni In una biblioteca di storia Che era di storia contemporanea Adesso lavoro nella biblioteca Di studi orientali La biblioteca di storia Era la stessa Nella quale avevo studiato Da ragazzo E avevo cercato di Insomma di Di arrivare lì In tutti i modi Perché All'inizio lavoravo in una biblioteca In medicina Quindi avevo chiesto Trasferimento Per me la storia Era Ed è ancora Una delle Delle materie Più importanti Diciamo che la prima Materia che ho studiato Io pensavo Insomma mi sarebbe piaciuto Così poi Fare lo storico Poi Invece ho capito Che probabilmente Non ero adatto Perché cambiavo Continuamente Il Le vicende Le modificavo Mi veniva sempre Così E quindi Mi ricordo La mia professoressa Mi disse Guarda E' meglio Che fai lo scrittore Ma non Non lo storico Però Ecco Mi è rimasta Quell'impronta E anche Quel desiderio Così Di cercare Di capire Che cosa Che cosa è successo Soprattutto nel Novecento E rispetto A quel secolo Ho Un rapporto Appunto Per chi è nato Nella seconda metà Del novecento Appartengo Al novecento Fabio Una domanda Com'è nata La passione Per la scrittura E soprattutto Da quando È nata Guarda La passione Per la scrittura Io ce l'ho avuta Sempre Ora Non so Come Spiegarlo Mi ricordo Che anche Da bambino Appunto Aprei Scrivevo Scrivevo In continuazione Era 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 Diciamo Che era una modalità Di esprimere Era un bambino Molto timido Molto introverso E La scrittura Era Era una Un momento di sfogo Sì Di espressione Che ho sempre Preferito Poi È stato Però È ancora Assolutamente Lo sarà Penso per sempre Perché la scrittura È così È un apprendistato Continuo Continuo Io vorrei far notare L'umiltà Di uno scrittore Che ha scritto Tre successi Uno dopo l'altro Che ha vinto Una quantità enorme Di premi Che è candidato Al premio Campiello E che si mette Così ancora In discussione Ma è una cosa Incredibile Figurati Ti ringrazio In realtà Non lo so Ma io Ci credo Ci credo Davvero E so E febbene Insomma Quanto Quanto Anche Quanto Impegno Quando uno ci crede Comunque le cose funzionano sempre Quindi ben vengano Questi tuoi libri E ben venga questa tua forza Di scrivere ancora Perché comunque È sempre meglio Come lui desidera Quindi non lo so Assolutamente E invece Un'altra domanda Volevo sapere Per quale motivo Cioè Tutti i due libri Parlano Sudamericano Stiamo parlando Di la rivincita Di Capablanca E finito Il nostro carnevale Quindi Cuba Brasile Da dove nasce Questa passione Del Sudamerica Sì Questa è una Radice familiare Mia nonna Era nata a Buenos Aires Parlava un misto Di dialetto Siciliano e spagnolo Io sono stato Allevato In questa strana lingua E probabilmente Mi ha trasmesso Un suono Così diciamo Un eco Solo che I sentimenti Che Sia La mia famiglia Che è una famiglia È stata una famiglia Di emigranti Soprattutto Provavano Verso l'America Erano davvero ambivalenti Da un lato C'era questa Questa idea Dell'America Fascinosa Come il grande sogno La grande promessa L'occasione della vita E dall'altro Invece c'era L'idea dolorosa Di un'America Che porta via Le persone care Che rappresenta Uno strappo A volte anche Davvero Violento Io ho ascoltato Molte di queste Storie Perché Chi andava Chi emigrava Chi era emigrato In Sud America Chi In Nord America New York O in California In più Tutto questo Probabilmente Io Da bambino Da ragazzo Ero un grande lettore Di Emilio Salgari Che riesca per me Uno scrittore Che ho amato Moltissimo Salgari In più Poi ho scoperto Da grande Sembra che sia corretto Dire Salgari Perché viene Dal nome Di un salice nero E questo È anche un bel simbolo Una bella metafora Perché la storia di Salgari È una storia molto triste Lui morì Suicida Non riuscì Scriveva Non riusciva a pagare Gli affitti Gli editori Gli rubarono tutto Insomma È una storia molto Contrariamente a quello Che si pensa O si sa È una storia Molto triste E Però lui Aveva questa cosa Sì Questa avventura E quest'uso Anche di I nomi accendevano La sua fantasia I nomi Esotici I nomi strani Ecco È come Sono come Dei piccoli interruttori Per me Sicuramente I nomi Di alcune città Brasiliane O alcuni luoghi Sono stati Un po' La mia Amazzonia Come dire È il luogo Privileggiato Della fantasia Perché Di fatto Poi io Non li avevo Visitati Prima Lorena Ci ha parlato Della rivincita Di Capablanca Si sa che Comunque Raul Capablanca È uno dei Giocatori Di scacchi Più importanti Del novecento Che comunque È la parte Storica Che ti piace Trattare Come è il tuo rapporto Con gli scacchi Ti piace questo gioco Ti piacciono più Le ideologie segretiche Che comunque Ne fanno parte Che sono quelli Che comunque Per quanto mi riguardano Non sono mai riuscito A capire Perché comunque C'è tutta una logica Particolare Per quanto riguarda Il gioco degli scacchi E questa è Un'altra Passione In realtà Sono assolutamente Un pessimo giocatore Un giocatore Idiotrissimo Ma mai quanto meno Non ci credo No ma veramente Però Quello che mi piace Degli scacchi È la loro Il fatto che È qualcosa Molto simile Alla costruzione Di un testo letterario Per esempio Una partita Di scacchi C'è un'apertura Che è la prima mossa Ed è l'incipit Di un racconto E sappiamo appunto Che in un racconto Soprattutto Nei racconti brevi La prima frase È fondamentale Così Anche Anche la prima mossa Di una partita Poi c'è lo svolgimento Quindi Si chiama Il medio gioco La conquista Del centro Diciamo che Potrebbe essere Letterariamente Lo svolgimento Della trama Come i pezzi Si dispongono Sulla scacchiera E poi c'è Il finale Io credo Molto Nel finale Anche In letteratura Cioè Sono convinto Che Ogni Buona storia Debba avere Un finale Un finale Forte E Capoblanca Era il maestro Dei finali Lui Aveva Quando prendeva L'iniziativa Da un certo punto In poi Non la Non la mollava più Finché non dava Scacco matto E prevedeva Tutte le mosse Che sarebbero Ecco Quello svolgimento Così matematico Di Di un Di una partita Di un gioco Come se Tutto portasse A L'ultima Finale Definitiva Mossa È Per me Il risultato Che Più Più grande Che si possa Ottenere In letteratura Quando sembra Che Quello che accade Accade perché Non può non accadere Per una serie Di conseguenze Inevitabili E necessarie Ecco Questo Mi affascina molto Questa Confronto Parallelismo Eccezionale Sì davvero Non me posso rivendere Anch'io La possibilità L'ultimo Ballo di Charlotte Che vede appunto Come abbiamo detto prima Protagonista Charlie Chaplin Sappiamo che il libro È già stato venduto In molti paesi Ed ha avuto Un notevole successo Te lo aspettavi Questo grandissimo successo? No assolutamente Io lo stavo Per pubblicare Con una piccola Casa editrice Per ragazzi Quindi Non credevo Che sarebbe Potuto accadere Una cosa del genere E sono stato assolutamente sorpreso Da tutto questo È anche un pochino Incredulo Però la cosa bella E oltre naturalmente È una bellissima cosa Tutto quello è successo Ma che il personaggio È un personaggio di Charlotte È evidentemente ancora Piace Un personaggio Sì È contemporaneo È una sua Una sua forza È una sua C'è un bisogno Insomma Io molto ingenuamente Avrei voluto Ho scritto questa storia Anche perché Avrei voluto Tanto ripetere un film Che magari non avevo visto Di lui Quindi me lo sono scritto In qualche modo Però La sua figura È ancora Scandalosa Una sua Forza scandalosa Ecco Nel Perché lui Chiaramente Si sa Da che parte Sta E A questo Modo Molto Originale Sì Leggero Anche malinconico Di 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 vivere La vita Scusa Se ti interrompo Volevo far leggere La Cristina La quarta di copertina Di questo libro Sì Quello che la storia È veramente Appunto Come dice Originale Praticamente Fabio ha veramente Scritto un altro film Quello che avrebbe Ha scritto veramente Un altro film Quello che forse Charlie Se ci avesse pensato Avrebbe Potente rinterpretato Allora In una sera di Natale La morte va a trovare Charlie Chaplin Nella sua casa in Svizzera Il grande attore Regista Ha passato gli 80 anni Ma ha un figlio Ancora piccolo E vorrebbe vederlo Crescere accanto a sé In un lampo di coraggio Chaplin Proporre un patto Alla vecchia signora Se riuscirà a farla ridere Si sarà guadagnato Un anno di vita Inizia così Un singolare balletto Con la morte Quella notte A salvarlo Non sarà la tecnica Consumata dell'attore Ma la comicità Involontaria Che deriva dagli impacci Dall'età La questione È solo rinviata Come quelli Come Chaplin Comunque hanno Un'importanza Molto grande Quanto tempo ci si impiega Per studiare E costruire un personaggio Come Chaplin Nel suo libro È una bella domanda Quanto studio Anche perché hanno comunque Una storia abbastanza massiccia E quindi Secondo me Ce ne vuole un bel po' Sì Io sono stato Un po' affavorito Appunto Dal fatto che Da Da Quando ero Era un ragazzo Avevo Avevo letto Più volte Ma Veramente tante volte La sua autobiografia E quindi Ero Completamente Affascinato Dal personaggio Già Ma in passato Avevo letto molto Quando Quando ho capito Che sarebbe stato lui Uno dei Dei personaggi Di Di questa storia Che poi È il personaggio Che porta a termine La storia Ma forse Non è nemmeno lui Il Il protagonista O comunque Ci sono anche Altri personaggi A cui Sono affezionato Ma lui È determinante Perché è l'unico personaggio Che può Far tornare i conti Di tutta Questa vicenda E sperando anche Di catturare Il lettore E quindi Ho riletto Tutto quello Che c'era Possibile Insomma Interviste Biografie Interviste Soprattutto Ne sono uscite Parecchie Alcune sono Sono illuminanti C'è un'intervista In cui lui dice Io sono l'uomo mancino Io sono un dorso Insomma Sono tutte Suggestioni Che poi Mi sono servite Appuntavo Ecco Quello Che poteva Poi Svilupparsi Anche come Germe Di 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 una Storia Ma Come vi dicevo Però Lui È Il Il Personaggio Che si carica Questa storia Sulle spalle Ecco In questo È Importantissimo Essendo Una favola Io pensavo Fosse una favola Per ragazzi Invece probabilmente Devo arrendermi Al fatto che Forse è una favola Per adulti Però Come In tutte le favole Lui Che è un orfano È Più o meno Un orfano Perché la madre Comunque È ricoverata In un manicomio Ha tutte le caratteristiche Del Del protagonista Di una fiabba Di quello che Compia un viaggio E Consegna Un oggetto Magico Che in questo caso È una scatola La scatola magica La scatola Dei sogni Diciamo La scatola Dove Dove è stato inventato Il cinema Insomma Attraverso La quale Lui la consegna Al personaggio Che Che l'aveva creata Tanti decenni Prima Ecco Questo Questo atto Di restituzione È Quello che volevo Raccontare Proprio Una delle parole Chiavi Di questa storia Per me È davvero Restituzione Cioè restituire Qualcosa a qualcuno Che poi Come tutte le favole Insomma restituire Una speranza Un desiderio E Qui ci sarebbe Anche Da Dire due cose Sul mito di Orfeo Però non vorrei No ma noi siamo Interessatissimi Anzi A me piacciono Questi racconti Perché comunque Lo studio di ogni personaggio Poi ha un suo fascino Perché va a scoprire Delle cose inedite Che Non tutti sanno Che Ti invogliono Sempre di più A scoprirne altre Quindi è una cosa Allucinante Infatti Volevo chiedere Appunto Tu hai scelto Questo personaggio Charlie Chaplin Quanto c'è Di Charlie Chaplin In Fabio Stati A questo punto Bella domanda Guarda Ieri ho Ho provato Un vecchio vestito Che avevo Ti sei sentito Sì Mi veniva No ma Lui è Assolutamente Cioè Un genio Totale Per me Il più grande artista Del novecento Completo Quindi Poi musicista Cioè Completo E con Lui però Dimostra Quanto è importante Il passato Quanto il passato Ci condiziona Per me Quel genere Di artista Che mi commuove Perché Nelle sue Nelle sue Opere d'arte Insomma Nei suoi film Hai la sensazione Che tutto quello Che fa Per lui Sia una questione Di vita O di morte E io credo Che veramente Era così Perché lui Veniva da un'esperienza Così tragica Così Difficile Sì una miseria Così forte Insomma Che O riusciva a riscattarsi O sarebbe Stato travolto Nel tentativo Insomma Quindi Per lui Non è È davvero qualcosa Di Un investimento Emotivo Totale Ecco Questo genere Di artisti Mi Come dire Mi Affascinano Ti toccano Nel profondo Poi alla fine Che comunque Parliamo di un genio E beh Fabio Hai definito Questo libro L'ultimo Parlo di Charlotte L'ultimo Di una trilogia Qual è il filo Conduttore Di tutti e tre I libri Questo me ne sono Accorto alla fine È davvero curioso Perché Ho Ho fermato La stampa E Gli ho fatto Aggiungere Un'ultima Nota Finale Al libro Che era già Andato Insomma In stampa In tipografia Mi sono accorto Che tutti e tre Le storie Intanto parlavano appunto Come abbiamo detto Dell'America E curiosamente Era un viaggio Progressivo Salivano dal sud America Fino Fino alla California Passando per il centro America Di Cuba Poi curiosamente Avevano una specie Di calendario Cioè La prima La prima storia L'avevo intitolata Col primo verso Di una canzone Vinicius de Moraes A cabù Nosso carnaval Che vuol dire Finito il nostro carnevale E quindi Era il carnevale La seconda Questa Quella di Capablanca Non aveva nel titolo Una Una festività Però Però Era una storia Di In qualche modo Di 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 Resurrezione Da parte di Di Capablanca Attraverso Le consegne Attraverso un bambino E quindi In qualche modo Era una Pasqua Una Pasqua Proprio perché Una Pasqua Vista come Laicamente Quasi come Riscatto Insomma E quest'ultimo È un Natale Perché a lungo Il titolo È stato l'ultimo Natale Di Charlotte E quindi Quando ho capito Che c'era anche Che avevo Involontariamente Segnato Delle date Sul mio Calendario Immaginario Così Mi sono Desso conto Che c'era anche Una coerenza Interna In tutte le Tre storie Che raccontavo Una era Il riscatto Questo tema Appunto Di personaggi Che cercano Una rivincita Nella vita Insomma Che cercano Di farcela E che Riescono A Alla fine Sono anche A realizzarla Comunque Sì Nel senso Tutto quello Che gli succede Anche Di negativo Riescono A A Trasformarlo In qualcosa In un'occasione Ecco E Poi c'era C'era in tutte Le storie Anche il tema Del talento Evidentemente Sono Mi piace Raccontare Oppure Mi piacciono Anche Vedere Leggere i libri O vedere i film Quando si racconta Il momento In cui si manifesta Un talento Nella vita E per me Quello È uno dei momenti Più importanti Della vita Delle persone Perché Per me Il talento È il destino È il momento In cui Il talento Si manifesta È come se Tu sei andato All'appuntamento Con il tuo destino Io credo Che un talento Ce l'hanno tutti Gli esseri umani Un qualche talento Credo Che forse Non tutti Gli esseri umani Vanno O possono O riescono Ad andare A questo appuntamento Quando accade Veramente Come Una scoperta Ecco Quello Quello È un C'è Ricordo A proposito Di cinema C'è un film Che a me Piaccia moltissimo Un film Di Marcel Carnet Che era appunto Regista francese Che gli piaceva anche Raccontare Delle favole Erano i film Anche Che usavano Il fantastico In maniera Discreta Delicata Ma anche Molto poetica Questo film Si chiama Mi sembra Mentre Parigi dorme Ed è l'esordio Di Yves Montand E qui c'è Un proprio C'è Il destino Impersonato Da un attore E ci sono Questi Questi Personaggi Che vanno Vanno a incontrarlo Vanno Al loro Appuntamento Tutto si svolge Di notte In un porto Insomma Ecco Questa è Un'atmosfera Che mi piacciono molto E direi proprio di sì Insomma Io volevo Rilacciarmi A una dichiarazione A una tua dichiarazione Scrivere È un atto etico E di grande responsabilità Ci puoi spiegare Questo concetto Guarda E più che mai Adesso Come dire È diventato attuale Dopo questa Storia un po' Incredibile Del campiello Che sento La responsabilità È aumentata Enormemente Ma Io credo Che La responsabilità Ci sia Sempre Anche se scrivi Per Non credo Che si scriva Per se stessi Si scrive Comunque Per essere letti Per comunicare Per Si scrive Si scrive Anche Per un amico Soprattutto Io credo Che L'amicizia Sia Uno dei sentimenti Che ha a che fare Molto Con i libri Con le storie È un valore È un valore importante Secondo me Infatti è un valore In cui io credo Tanto E che spesso Viene a mancare C'è da dire Purtroppo Sì sì no Se posso dirlo A volte Potrei anche dire Che scrivo Per Ho scritto Anche per Per Farmi leggere Dai miei amici Insomma Anche per farsi Correre bene Naturalmente Perché è così Ma Comunque Che Credo tantissimo Che sia un atto etico Perché le parole Sono Per me Sono Degli organismi Viventi Come Una parola Può ferire Può Può lasciare Delle cicatrice Molto più Più Durature Di 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 un oggetto Contundente Se usato E le parole Soprattutto Per chi Non ha altro Oppure Non ha Diciamo Delle Ricchezze Delle Possono Hanno un potere Fortissimo Perché con le parole Si può sedurre Si può Si può fare Molto Insomma C'è un detto Che dice che una parola Fa più male di uno schiaffo Ed è vero Sì sì Ma si può Può anche ingannare Ecco In questo Penso che bisogna Uno Deba Scrivere Senza pensare A Niente Non Non Alle conseguenze Però Deba essere Profondamente onesto Con se stesso Scrivere Sì 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 no Una ragione Intima In questo E non E non per altri fini Insomma Che possono essere Appunto il successo, qualsiasi altra cosa, del resto viviamo in una società in cui lo spettacolo veramente sempre più, domina sempre di più e in cui anche la letteratura viene in qualche modo risucchiata in questo vortice spettacolare e credo che bisogna scrivere debba essere, impersonificare altri personaggi, è proprio il contrario dell'ecocentrismo, cioè uscire da se stessi e vedere cose da altri punti di vista l'immaginazione poi oltretutto è una facoltà che hanno tutti gli uomini e che è importantissima, perché se tu immagini il dolore che puoi arrecare a un'altra persona, magari non lo fai e non è un caso che, non so i gerarchi nazisti, era gente che non aveva immaginazione era pochissima immaginazione Quindi era gente di poche parole sostanzialmente Fabio Senti Fabio, abbiamo parlato così di parole come molto sinteticamente tu per darci proprio una frase a effetto come definiresti il tuo stile? Bella domanda sinteticamente troppo facile No, questo ecco forse una cosa potrei dire come mi piacerebbe avere un stile mi piacerebbe scrivere in levare ecco questo potrei dire non so se avete presente la musica brasiliana per esempio tutta la musica appunto che viene dall'Africa in cui non conta tanto il movimento del battere ma quello in levare cioè scrivere in modo che tu non ti aspetti quello che che venga che venga dopo c'era un farsi sorprendere insomma anche dalla scrittura c'era una frase bellissima ecco di John Coltrane che era un musicista jazz che diceva che i suoi assoli di sassofano lui dice io vorrei che la gente che ascolta i miei assoli abbia la sensazione di mettere il piede nel vano vuoto di un ascensore ecco questa sospensione riuscire a dare questo far mancare un attimo il respiro in quel modo quello sarebbe ma naturalmente difficile è emozionante però comunque devo dire che il libro di Fabio Stassi comunque diciamo sebbene lui parli sempre di questa sua tensione al miglioramento a questo suo insomma ideale del levare è un libro che si legge benissimo e c'è anche devo dire tensione perché ogni volta che si affaccia alla morte uno praticamente si interroga che cosa si inventa adesso che cosa inventerà e devo dire che ci riesci benissimo comunque a creare questa questa suspense veramente è gradevolissima la lettura sotto moltissimi punti di vista e un'ultima domanda cosa potrebbe cambiare nella tua vita vincendo il campiello cattiva questa non voglio nemmeno pensarci ma diciamo che io lavoro forse non so sono già venuto a Rieti due volte sono stati due incontri bellissimi e la foto che abbiamo scusa se ti interrompo Fabio però ti ritrai proprio a Rieti comunque sono stati gli incontri davvero belli e lì appunto ho raccontato che io in realtà sono un pendolare perché vivo a Piterbo e lavoro a Roma quindi tutti i giorni sto in treno 4 ore circa ogni giorno oggi no appunto perché ho un po' di febbre ma tutti i giorni è così ecco questa per me è stata una grande opportunità una grandissima opportunità perché ho avuto tutto questo tempo insomma per leggere per scrivere in questi anni forse magari se riuscissi un giorno a prendermi tre mesi per potermi dedicare alla scrittura completamente sarebbe già questo un sogno grande ma insomma siamo comunque un ottimo punto comunque abbiamo tanti incipit per dei progetti futuri vero? sì certo abbiamo due soprattutto due storie insomma ancora imbastite però a cui tengo moltissimo però saranno anche molto diverse da da questi precedenti anche se anche se i temi mi rendo conto che poi i temi tornano in maniera un po' involontaria ecco vorrei salutarvi magari avevo accennato prima al mito di Orfeo e ci terrai a dire quest'ultima quest'ultimissima cosa perché sì questo è uno è un pensiero che ultimamente mi capita di fare spesso ho fatto gli incontri anche alle scuole e ho saltato fuori sempre questa storia di Orfeo e allora ripensandoci mi viene da credere che sia una storia molto importante io per tutta la per tutta la mia vita ho avuto verso Orfeo una grande rabbia perché lui ha l'occasione di riportare Euridice dal regno delle ombre in vita e ha il divieto di voltarsi e all'ultimo proprio all'ultimo si volta io è è sempre mi sono sempre detto perché ce l'aveva fatta ce l'aveva perché e adesso mi sono dato una risposta che in fondo è anche anche la storia di Charlot in parte in parte lo è se è letta come una storia d'amore quel patto che Orfeo aveva fatto con gli tei era una truffa ma Orfeo lo sapeva perché dalla morte non si può tornare e il tempo non si può riportare indietro e allora l'unica cosa che si può rubare è uno sguardo all'indietro uno sguardo appunto verso Euridice che può rappresentare tante cose la donna amata la terra di partenza e quindi lui si prende l'unica cosa che c'è con c'è quello sguardo che si attimero è l'unica cosa che è concessa agli uomini in fondo l'invenzione del cinema è anche questo come dire la morte anche che è stanca di essere essere la morte e l'unica cosa che si può che si può regalare agli uomini è e fargli rivedere una cosa quando erano giovani per esempio come nel caso appunto l'altro personaggio di questa storia la donna amata della sua vita ecco quello quello sguardo restituito è come dire l'unica risposta che possiamo dare al dolore della mancanza della perdita che poi in fondo probabilmente è uno dei motivi più grandi per i quali si scrive cioè si scrive come Alfeo l'artista si cerca di di rimediare un po' un po' di curare il dolore di ammaestrarlo di addomesticarlo un pochino oppure di farlo esplodere ben consapevoli però che appunto non è possibile nessun non non c'è possibilità di ritorno è vero purtroppo è così è purtroppo è così bellissimo Fabio noi ti ringraziamo Fabio per essere stato qui con noi ringraziamo anche Cristina ringraziamo Cristina e ti auguriamo tanti tanti in bocca al lupo per questo nuovo progetto e speriamo ben presto di averti qui con noi proprio fisicamente magari ne avrò bisogno intanto pensa a guarire da questo piccolo malesse si 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 è l'emozione va bene buona giornata a tutti buona giornata Fabio grazie bene Lorena è stata veramente bella questa intervista davvero molto interessante è bello anche questo spazio che Cristina ci regala ogni volta che riguarda comunque la letteratura che è una cosa molto importante e fondamentale nella vita di ognuno di noi perché comunque non fa altro che alimentare la cultura esatto quindi noi ci rivediamo nel weekend con un altro ospite che poi scoprirete solo vedendolo non diciamo nulla ancora solo vedendo come dicevo un grande quello di prima e adesso tra pochissimo ci saranno le anticipazioni sportive con Paolo Giovi e intanto ci ascoltiamo una canzone d'amore perché dai ci può stare ci vuole ti ringraziamo ancora Cristina a presto ciao ciao ciao